Siamo con il nuovo sindaco di Castrocaro, possiamo dire quali saranno i prossimi passi? I prossimi passi inizieranno domani mattina, andrò in consiglio in comune, cercherò di trovare l'ex sindaco, parlerò con lui e poi in funzione di quelle che sono le necessità del comune muoverò i primi passi. Quali sono secondo lei le emergenze, le cose più importanti da fare adesso a Castrocaro? Le cose più importanti da fare sono in fretta trovare una soluzione a questa insicurezza diffusa che c'è nel paese, l'altra è trovare il modo per applicare correttamente l'Imu e approvare questo bilancio che l'amministrazione precedente non ha approvato. Queste sono le emergenze più grosse, poi vediamo in funzione dei voti di comporre la giunta e come andare avanti. Abbiamo appena parlato con il neoeletto sindaco di Dovadola e diceva di fare una specie di gruppo della vallata per promuovere il turismo, per promuovere il territorio, lei è d'accordo? Non solo sono d'accordo, sono stato uno dei promotori, qui ormai i piccoli comuni non riescono più a reggere da solo quelli che sono gli impatti ambientali, quelle che sono le necessità delle popolazioni. Noi, sia noi che Dovadola, che Rocca, fino su al Crinale abbiamo delle necessità di rivitalizzare i nostri territori, è ovvio che lo dobbiamo fare assieme a Forlì che è la città più grossa vicino a noi e per valorizzare tutto il patrimonio culturale che noi abbiamo e noi dobbiamo rivalorizzare le nostre termine che ultimamente sono state un po' abbandonate. Ecco, quindi una valorizzazione del territorio e puntare anche sul turismo può essere importante per Castrocaro? Il turismo per Castrocaro è importantissimo, noi abbiamo 20 alberghi, 830 posti letto, 830 camere, 1300 posti letto e avremo necessità di riempirle per parecchi mesi dell'anno. Ci rendiamo conto che non è più sufficiente il turismo termale, dobbiamo fare in modo che venga a Castrocaro anche del turismo sportivo, ambientale, persone che vengano anche per rilassarsi e per passare delle giornate, diciamo così, in mezzo al verde della natura. visto che è ancora molto incontaminata la nostra natura.